E' scritto nelle pagine bianche, nel vuoto che circonda con l'espressione che adesso hai nel volto la pace qui, il suono delle tue parole muovono il giorno, bruciano tutto e la vita la vita è qui, la speranza, i sogni che fai gli obiettivi che sposti più avanti negli occhi che vedono un mondo senza rimpianti capovolgi la realtà per non vergognarti e ti nascondi da te stesso e poi infine dagli altri la luce è qui, la luce che sveglia ogni cosa e che, 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 che grazie in cuore per questa partecipazione sentivo le vostre anime e spero voi da me un grazie speciale al maestro è sempre bello avervi qui grazie a tutti grazie a tutti